Il primo weekend del mese di marzo è quello designato per il ventitresimo turno dei campionati regionali. In eccellenza si parte con tre anticipi. Si tratta di sfide che potrebbero anche condizionare il proseguo della stagione e riaprire ad esempio il discorso primo posto. Sicuramente è complicata la sfida tra Macchia e Venafro accapriati al volturno. Riscatto, semplicemente, unicamente e fortemente il riscatto. Il Macchia ha solo un termine in testa nell'avvicinamento al confronto contro il Venafro. I ragazzi De Bellis, infatti, mercoledì, hanno perso sul campo degli abruzzesi e il paterno nell'andata del primo turno della fase nazionale. Il ritorno ci sarà capriati a volturno l'8 marzo. Però, nonostante la sconfitta in Coppa per la società bianco-celeste, l'interesse prioritario è focalizzato sul campionato, dove sta continuando la propria marcia al comando della classifica. In casa Macchia è forte la consapevolezza di avere a che fare contro uno dei peggiori avversari in questa fase. Infatti il Venafro non farà sconti a nessuno. La combriccola di Capaccione vuole mantenere la terza posizione in classifica generale e anzi punta a qualcosa di più importante con il Vasto Girardi, che al momento ha solo quattro punti in più. Direttore del match, Joanne Stappinier di Merano. Per il sesto campano, domani, ci sarà l'esame interno con la seconda forza del girone Vasto Girardi. Il team, guidato da Mister Cecchino, reduce a due pareggi consecutivi, rispettivamente con Guglionesi e Spinete, vuole tornare ad assaporare il gusto dolce dei tre punti. Di contro il giallo-blu, farti del settimo successo consecutivo in un 2017, i sole affermazioni con una striscia di risultati che arriva a 14 partite, vogliono continuare a sognare la Serie D, ma per farlo non possono permettersi distrazioni, infine allo scontro diretto con il Macchia, che dista solo cinque lunghezze. L'11 di Del Grosso non dovrebbe avere particolari problemi con il sesto campano, ma non sarà una partita da prendere con leggerezza, perché all'andata vinsero i Biancorossi 5-3. La contesa è stata affidata dall'It-Sing della sezione di Macerata. Completa il quadro degli anticipi di eccellenza, la sfida di bassa classifica, che andrà in scena al nuovo antistadio Selvapiana, tra i locali al Campobasso 19-19 e Spinete. Dopo la pesante sconfitta con i Guglionesi, i padroni di casa hanno necessità di fare i punti per tentare di uscire dalla zona rossa. C'è in palio un pezzo di salvezza anche per il team di Calabrese, per il quale sarà importante dare vita ad un risultato di spessore per dare un segnale importante alle dirette e concorrenti. Quello è ciò di un gruppo che non molla mai sino al raggiungimento del traguardo. Arbitrerà ai 90 minuti Matteo Matarese di Termoli. Concludiamo con la promozione. Nell'ottimo turno è stata rivoluzionata ancora una volta la vetta con il Boiano 62 che ha scavalcato di nuovo la Frentagna, distante solo un punto. Tutti gli occhi saranno puntati sull'unica sfida tra FVP Matese e FC Molise. Si tratta di una gara totalmente sbilanciata dal punto di vista delle motivazioni. Infatti, se non a parte i bianco-verdi e i rossi puntano alla zona play-off, il team Dimitro vuole ripetere la buona prova offerta contro il Campomarino per allontanarsi il più possibile dalla zona play-out. Il direttore della sfida è il fischietto campobassano Valerio De Castro.